Hey hey peeps, welcome back per un altro Darkest Friday Ok, mo' ci abbiamo Tutta una serie di cose nuove Che c'è una nuova confessione Che in italiano non so come cavolo le traduce alcune cose Un nuovo mountain boss, un nuovo boss della montagna Poi ci sono questi goals, questi obiettivi dei vari eroi Che vengono generati alle crossroad Ci avranno dei goal personali se riusciamo a farli Ma sta roba a me mi sembrava già vista possibile Sta faccio quando cacchio è uscita Scouting chance aumentata Stitching kit hanno aumentato la cura da 10 a 20% Ok, non male Ci sono dei nuovi modifier per alcune regioni Hanno aggiunto 10 nuove regioni Cioè 10 modifier per le regioni 10 modifier e qua me ne dice solo 3 Fiamma massima col vento 33% battle advantage chance Questo è buono 100% creature than scouting E più di 100% creature than chance Ok, questo non è il caso in cui c'è big game Big game sarebbero gli animali quelli da la cacciagione grossa La caccia grossa Heroes Le skill che non fanno danno del bounty hunter Ok Ok, adesso non sono più anti stallo Ma ti faranno stallare 10% stack penalty Death blow resist after a success Ok Uh, mamma mia Quindi praticamente ogni volta che resistono a un death blow Gli eroi Uh, hanno un 10% di resistenza al death blow tolta Staccabile Finché non finisci il fa Quindi Osho, eh Osho parecchio a lasciarli in Death Store Vabbè, poi il toto toto della Helion è stato nerfato E... Ce stanno un paio di cosine ce stanno Comunque, raga, come al solito Come al solito Se vi piacciono i RPG siete nel posto giusto Io direi che tra un attimo andiamo avanti E finiamo di leggere ste patch notes E... Segui il canale, chiaramente, raga Grazie mille Grazie per i commenti, tra l'altro Che mi lasciate spesso e volentieri Cerco sempre di rispondere a tutti quanti E comunque li leggo tutti E... Se non seguite il canale Chiaramente vi invito a farlo Perché più se non è meglio è Allora, hanno cambiato delle robe sui cultisti Ma è inutile che le leggo Perché... Mh... Alcuni mob non so neanche che cazzo è Tipo i kerub sono i bambini Quelli piccoli volanti Alcuni probabilmente manco l'abbiamo visti Perché abbiamo ricominciato da poco Questo qui che gli eroi Si levano uno di stress C'hanno una piccola chance di levare uno di stress Quando si leva la... La nebbia Combattendo Nella nebbia degli uomini pesce Niente male Hanno aggiunto un bel po' di fix Robette audio varie Madonna quanti fix Ok, vabbè Io direi che possiamo intraprendere un nuovo viaggio Però stavolta voglio fare... Non so Voglio scrambolare questo team Tra l'altro hanno aggiunto anche delle nuove aree Delle variazioni delle aree Mi pare fossero tre se non sbaglio Ehm... Quindi c'è... C'è tanto... Cioè... Regà è Darkest Dungeon Cioè è hurtissimo È hurtissimo Se non mi ricordo male costava 30 bombe Dobbiamo riuscire a finire sto diniego, eh Va finito Reus Captius Va finito, va finito Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Ah, però io non ho fatto... Ah, te lo fa fa adesso che... Mh... Quando è che te fa spendere le cose? No, aspetta, 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 aspetta Eh, abbandonando la spedizione Solo alcune delle candele che ho ottenuto Se riesci ad arrivare alla prossima locata Potrei porre fino alla spedizione Mantenere tutto ciò Aspetta, 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 aspetta Momento, momento Perché voglio spendere le candeline No, scusate, ce l'abbiamo Che fai? Non le spendi le scandelette? Mi sembra una fesseria Non spendere le scandele Caricamenti cominciano a diventare da PlayStation 1 Sì, 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 sì Continua O mi ritorna un'altra volta No! No! Come cazzo faccio? Come faccio? Vabbè, andiamo avanti Allora, che vedevo di Le useremo poi le candele Ma non c'era un modo Come cazzo si faceva dal menu principale Di spendere le candele? Vabbè, le spenderemo poi Cioè abbiamo La torcia a 69 Era perfetta Volevo spendere le candele io Denial Denial Ok, comunque ci penso Il secondo... Com'era la cosa? Si cominciava col diniego Poi si arrivava all'accettazione Com'è che c'era tutta la serie di cose? Mi sa che vogliono andare a parare lì L'inizio è il diniego Siamo noi che rifiutiamo questa situazione terrificante E poi pian piano andiamo avanti E qua bisogna andare ai tabernacoli della speranza Sennò non si risolve nulla Questa cosa che ogni volta Che non si può fare Che c'hanno le robe già messe È parecchio fastidiosa Devo dire Beh oddio Il colpo tracciante a me piace Vi dico la mia Poi ce ne stanno varie di altre cose Che Che mi piacciono Un'altra cosa che si potrebbe fare È il colpo bruciapelo Che marchia i target E poi da lì uno potrebbe usare la roba Per crità eccetera Potrebbe essere un'opzione Why not? Dunque loro che vogliono fare? Vediamo un po' Questo vuole entrare nella selva Questo vuole esplorare una regione Con una torre di osservazione Questa vuole entrare Visitare un santuario dell'eroe E lui vuole entrare nel fetore Diciamo che lei vuole entrare Diciamo l'unica poco fattibile È il fetore Per il resto Siamo belli golden Ci vorrà un po' Ci vorrà un po' Tra l'altro vorrei fare Vorrei giocarlo live Eh vedete Ce ne abbiamo 15 Di torcette Di cose Di fare qua Da spendere Devo sgamare Come si fa a spendere Insomma Eccolo È vero Era qua direttamente Ok l'abbiamo sgamato Subito Collezione recuperata Un pacco di roba Il bosco perenne Che è quello che potenzia Le skill Però non c'ho nulla qua Come funziona sta cosa? Ah Devo investire le cose Capirai Reflect now On simple times Precious moments And finer things Uuuuh E gli può Ah wow Wow ragazzi C'è un botto di roba Che si può modificare qua Praticamente Ok Quindi In buona sostanza Nel bosco perenne Ci fanno proprio Delle stat Qual è il personaggio Che vorremmo tenere Nel party Praticamente Al 100% Io penso Paracelsus Resistenza alla morte Battute positive Critico Danni Velocità Io penso che A parte costano tutte 5 Quindi penso che Ci fanno una mazza Però in generale Io credo che Su Paracelsus La cosa principale Sia la speed Perché Con la speed Di Paracelsus Riusciamo a fare Quello che non abbiamo fatto A parte L'avrei potuto fare Perché in realtà L'avevo fatto il turno Ma non gliel'ho voluto Levar io il sanguinamento Però se avessimo Se fossimo stati Più veloci di lei Nel turno dopo Avremmo levato Il sanguinamento Avremmo risolto Il problema Invece Ah vedi Perché poi I potenzi C'hanno tutte robe Eh vabbè ragazzi Bestiale Che poi puoi farlo Su tutti quanti Ma quindi Ha voglia Qua si gioca All'infinito Poi sbloccare Gli ornamenti nuovi Le cose nuove Questo già L'avevamo visto Le varie reputazioni Animali Eh ci sarà Tanta roba Tanta roba Speriamo che non Resettino mai questo Perché qua ci vuole Parecchio Che mi ha dato Se inizia il round Per primo Ah E allora minchia 66% Possibilità Da perché c'è il critico Quindi ovviamente A lui gli conviene Mega speed Se l'abilità Passo del duellante Animale Meno 90% Guarigione ricevuta Quest'altro Invece che gli da Se la posizione 1 C'ha 25% Di danni Wow Eh beh Allora lo dobbiamo spostare In posizione 1 Lui 25% Di danni Comunque c'è un pacco Di roba Che puoi sbloccare Con queste candeline Cioè diventi Veramente strong L'unica cosa È che te le devi Ricordare tutte Perché sono tante Vabbè Vediamo un po' Che riusciamo a fare Le desperatos Desperatos Trinket Vai vai Dammi trinket Si inizia Ah ok Ma What Ma scusa Ma È un trinket Sta cosa Quindi Il cibo qua Lo buttiamo Ah Monnezza Tra l'altro Se avete notato Non danno più Tanto cibo Come lo davano Prima Cioè Prima eravamo Sempre seppi De cibo Invece a sto giro Ben poco Ben poco Vediamo che Lutter Riusciamo a rimediare Prendi questo A parte nella zona Principale Si trova ben poco Vediamo se il collezionista Ci dà un po' De De robetta buona Ah Sì 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 Allora Questi li prendiamo tutti Ci abbiamo ancora 48 Allora lo stress No perché non ci capiterà Questi della resistenza Alla fine costano poco E migliorano la cosa Però magari riusciamo a prendere Accumulo di reliquidi 8 per ogni quantità Accumulata Meno 33 Esaurimento Coso Battute positive Probabilità di produrre Io prendo quello Delle battute positive Sai che c'è Beh Questi fanno Abbastanza schifo Ah guarigione conferita Però danni ridotti Questo lo possiamo dare a cose Poi prendiamo questi Sono useless ma Ma fanno il loro lavoro Allora questo lo diamo a lui Quest'altro lo metteremo nel coso Questo glielo diamo a lei E andiamo avanti E ci abbiamo le carte Che sono importanti Speriamo che ci dica bene Poi con le carte Così andiamo belli cafoni Vediamo un po' Già abbiamo perso 15% di torcia Ma come cacchio è possibile Va giù a 200 Allora la torcia L'aria sta cambiando Ti prego fai che il fight è facile Non mi attaccate malattie o cose Come ci dice Questo di solito Super sfiga Volante Ok Bang Bang Eh peccato che lei Non lo shotterà Questo immagino Farà un turno E darà uno schiaffetto Sifilide No uno di stress Bam Due maestria Due maestria Che poi lo mettiamo Eh bisogna vedere Dove la mettiamo Poi ne vedete dove la mettiamo Ce ne abbiamo tante di cose Da upare alla fine Un po' tutte in realtà Poi alcune ci hanno priorità Altre un po' meno Però insomma Bene o male Diciamo che ci serve Tutto quanto potenziato Dobbiamo rimediare I punti maestri De tutto E me devo ricordare che Lei voleva entrare nel Lei Odri voleva entrare Nel coso Nel Male Male Brutto Brutto No no Ma che sfiga Almeno questo Ho aggiustato un po' Le cose Vabbè È andato abbastanza bene Potenziamoci la prima combo Facciamo Uno E E due E due Così e così facciamo Così riusciamo a shottare Quelli davanti Sempre andando avanti e indietro Con Odri E coso Vediamo un po' se Se funziona Ah questi poi li dobbiamo Sbloccare Adesso siamo parecchio Pippe Bisognerà fare Parecchi drive Bisognerà fare Prima di riuscire a Sgomino il covo Dai nemici Ok Ok Combatti uno O nessun incontro Di perseveranza Voglio fa questo Per il semplice fatto Che il covo a palo secco Così secondo me Non è un Non è una buona cosa Da fa Onestamente Ci dice molto male Se facciamo il covo Subito Senza trinket Senza nulla Ci spezzano Ci frantumano Tra l'altro Poi lui C'ha l'obiettivo Ma gli obiettivi Che cavolo danno Tra l'altro Ah Danno la torcetta extra Ok Niente Ok Come se Aiude Qua era un po' Che non ci andavamo Perseveranza Questa è assistenza Ci conviene andare al combattimento Non peraltro Ma perché poi dopo possiamo prendere Lo scout Tra l'altro Le torri di osservazione Mi sembra che siano Non ho letto tutte le patch notes Da quando l'ho ripreso il gioco Però sembra che siano Meno random di prima Prima era capace Che avevi la torre di osservazione E qua Che c'è Tata avevi proprio in faccia Occupava solo spazio A parte che è abbastanza esplorato Qua si vede quasi tutto Potremmo andare alla Tanaferina Potrebbe essere in idea Adesso sembra che invece Le abbiano spostate In maniera insomma Un po' più intelligente All'inizio O abbastanza all'inizio Della mappa Sennò Che senso c'ha È proprio Uno slot Completamente inutile No lui se ne vuole andare Mai nella vita Spacchiamoli questi Questi sono parecchio stronzi E nella selva Sono veramente Infatti Andiamo bene Cominciamo con quelli Stronzissimi Subito Peccato per il fatto Che fosse Che fosse Full putre Dai Che palle Stico Muori Ben fatto Adesso questo Tirerà la crocca divina Oppure si farà Al coso Vabbè Vabbè Non ci spaventi Non ci spaventi Non ci spaventi Adesso ti avveleniamo A morte Muengard Gliela possiamo togliere Noi la guardia Con sta faccenda Veramente Definitiva E niente Tanto ne posso Fa questo Perché non Non gli triggero Nulla E mo gli dobbiamo Levare Il coso Ecco qua Questa è una bomba Comunque Lui pure Barristan è una bestia È un Credo che sarà Un bello staple Del team Penso che Allora Cercheremo di ruotare Loro due Con delle altre combo Poi nelle prossime Nelle prossime puntate Però Penso che Loro due Siano veramente Lo staple Della vita È stato Un fight Tranquillo Questo qua Meno male Che ci date Quello dei resti Corporei Lo possiamo Anche frullare Devo dire Anche questo Andiamo avanti Il cibo È tutto Putrido Fiamma Ce l'abbiamo A 91 In realtà Dopo potremmo Fare il baule Però se andiamo Alla tanaferina Il baule Non si fa Vediamo La cosa misteriosa Va Ce sta La tana Misteriosa La zona Misteriosa Vediamo Che cos'è Questo è un Incontro d'assistenza Ok Buono Buono Poracci Questi comunque Disperati Stanno a tocchi Eroi casola Dopo aver Raggiunto Ciascun luogo Ah Non è male Sto scaccia pensieri Meno uno Stress Così a bomba Ogni volta Buono Adesso Questo Glielo diamo Glielo diamo a lei È di sicurezza Questo Per evitare che muoia Il cibo putre Lo possiamo anche buttare Andiamo avanti Ah Tra l'altro Loro che c'hanno Di cose positive Nella regione Il fetore C'ha Beh Però non è male Insomma Comunque un extra Non male Fanfarona Ok Scaglia parola Ancora più taglienti Male male Resistenza Al sanguinamento Ottimo Ce l'ha aumentata Molto bene Wow Lui c'ha una roba Meno 20% Danni subiti dai predoni Se colpisce un predone C'ha un 25% Di chance Di togliersi Uno stress E 15% Danni contro i predoni Wow Stava presa debole Meno 3 critico Grave Questo pure è gravissimo Lesione cronica Ok Vabbè Gli dobbiamo levare Che altro c'ha Lui Aspetta Aspetta Ah C'ha qualcosa La lesione cronica Gli la dobbiamo levare Dalle palle Perché è brutta Forte Brutta Brutta Forte Scontricino Tranquillo La prima zona Insomma Beh oddio Insomma La prima zona La prima zona E tranquilla Le palle Questo dovrei riuscire A shottarlo In teoria Facciamo così E uno Lo abbiamo eliminato Ora lei c'ha 6 Di vita Con questo Non riesco A shottarla Facciamo così Così muore Il prossimo turno No Muore adesso Invece Speriamo Che questo Non tiri Una crocca Mastodontica Con 13 L'ha fatto Che non è Non è una robetta Diciamo Non è proprio Una crocchina Piccola Piccola Ah perché c'ha Dicevo Scusa Ma sto stress Da dove Da dove viene fuori Bello Sto Bello Bello E fare un altro turno Speriamo che la crocca Non sia troppo Preziosa No Dalla coltellata Sanguinante A posto Vabbè Andata sufficientemente bene Questa Diventano 85 fight Una pressa All'altro Che piano piano Perdi quel 5% Di Di grip Sulla situazione Ogni fight E la cosa diventa What Hello Ah è un'erba pipa Questa qua Pensavo che fosse Quella che levava Che levava Il coso Il sanguinamento Le robe varie Stata una ferina Penso che ce la possiamo Fa con tutta Tranquillità No Più 3 stress Così No Gravissimo Che si è beccato Che si è beccata Se c'è Vabbè Meno 10 danni Se c'ha la vita Tanto i danni De Paracelsus Non ci interessano Aggiunge tratto Queste muffe melmose Sono super rischi Comunque Dai Andiamo a stata Una ferina Ci vuole andare pure Barristan Così gli curiamo Lo stress Se ne generiamo Il triplo Per via del fatto Che entriamo Dentro la tana Del diavolo Vabbè Andiamo Sarà Un La tana ferina L'abbiamo fatta Proprio un paio di volte Non mi ricordo Neanche che diavolo fosse C'erano gli animali Quello si ovviamente Però non mi ricordo Che cazzarola era Un gruppo dei cani Le rane I cignali Vogliono combattere tutti Combattiamo È un po' Un po' Un po' Un mix Di roba Leviamogli Ste schivate Multiple Boom Becca Questi quattro In testa C'ha fame Ucciderlo Questo qua Questa quanta vita C'ha 17 Ah Bello Bello Questo è morto Nice Così abbiamo levato Le schivate Ah Lui si era Preso Gli devo Andare all'ospedale Per levargli Assolutamente Quello schifo Che c'ha lui Che è ultra putre Quella roba Male 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 Sta schivata Molto male C'hanno 60 Questi contro Il morbo Facciamo così Ci conviene Ce la giochiamo Col blind Ce la giochiamo Male Mo' i ragni Faranno le loro Cagate Solide Due dannacci Fetenti Io voglio Il cane morto Questo deve morire Questo attacca Le malattie Già lo so Non è morto No Non è morto Che sfiga Di merda Che sfiga Che non è morto Peccato E' buona Sta cosa Che c'ha Il Che vai avanti Sei bloccato E poi Puoi sparare E rimani Comunque Nel Nel Tuo Punto L'unico Che doveva Prendere Selustione L'aria Spinta Vabbè Facciamo così Arrivederci Perché se no Qua stiamo Una settimana Vediamo se lo hit Hittato E' scombato Pure E' archivederci Anche Direi Bene Bene Ah se ne è levato Uno di questi Non tutte e due Make sense 60 Ah vabbè Nonostante la resistenza Se l'è preso Che è morto Bene Onesto Vabbè Un fight Tranquillo Però quest'altro No Colpisci Z Maia la puttana Bene Bene L'abbiamo levato Dalle palle Uno almeno Quindi sono Tre round Di nemici Questi qua In teoria Qualcosa Del genere Nice Questo stira Bene Fiamo il taunt Così ci pigliamo L'attacco De sto coso Oh no Questo mangia le tombe Non buono No Non divertente Questa faccenda Dobbiamo eliminare Dobbiamo eliminare Questo attrezzo Prima che deponga Le uova Dunque Rompia danno Perché c'ha 47 guardie Il cane Il cane dovrebbe crepare Con una certa Solersia Il prossimo turno È morto Quanto c'ha Però dobbiamo Porca miseria Vediamo Vediamo la guardia Vediamo un po' Meno male Meno male Mi avrebbe mandato in death door Se non fosse Se non avessimo giocata così Questo è morto Giusto? Si Nice Bene Dovrebbe crepare Non lo so Però mi sa che c'avrà Il coso Questo qua C'avrà il punto De morte Ecco Magari muore Col coso Ok Finiti O ce n'è un altro ancora C'è una terza ondata Non so due Ok Vabbè se può fa E vediamo L'ultimo Consegna la rocanda Per ottenere i seguenti vantaggi Sconti su tutti gli oggetti Della diligenza Aumenta di uno La maestria Bono questo Bono perso Proprio Bono Bene Quindi la tanaferina Conviene farla Beh andiamo Meno male Al santuario dell'eroe Ci voleva andare a lei Se non sbaglio E poi ci abbiamo un covo L'unica sfiga è che ci abbiamo Santuario dell'eroe Santuario dell'eroe Cioè Combattimento Santuario dell'eroe Combattimento E il covo Quindi un po' Andiamo a far fuori questo qua Che è una rottura dei coglioni Sto cosa L'avrei Fatto saltare in aria Quel coso Non abbiamo recato Abbastanza vita Peraltro Almeno questo Mo lo togliamo Dalle palle Subito Facciamo così Ok Spero che esploda Prossimo turno Sicura Abbiamo arrivato Due guardie Che non è male No E da Doveva morire Quello Tadantun Tadantun Stacatacatacatacatacatun Lo togliamo No eh Dobbiamo levare questo Dobbiamo levare con lei Questo qua Questa è proprio la cosa Più sfigata Che c'è in tutto Il coso Ma l'hai tanto Con le tombe Sicura Non è Un problema Non vuole morire Sto cosa Non vuole proprio Crepare Ok le guardie Le abbiamo levate Tutte Oh Eh dai È una certa Anche perché Non è che ci abbiamo 27 turni Ce ne abbiamo 5 Stiamo già al turno 3 Ne abbiamo ucciso Solo uno di questi Per cui insomma Non è che è infinita La cosa Non so Quanto ce la facciamo Con i turni Onestamente Il prossimo È il turno 4 Dovremmo riuscire Sicuramente a uccidere Ecco questo va bene Death door A posto E uno Dobbiamo riuscire A levare questo Questo va allevato Perché se vi ricordate Questo Se rimane per ultimo Fa tipo una roba Che se ne va E fa un miliardo Di stress A tutto il mondo Ed è un disagio Che cazzo Che sfiga Se ce la facciamo Ce la facciamo Al pelo Con il prossimo Turno Ecco Questo sarebbe Stato buono Se fosse andato In cosa Vabbè Death door Per lui Speriamo questo Crepy Perché il prossimo Turno È la resa Dei conti Dobbiamo riuscire A farli fuori Perfetto Niente Trove il cazzo Sto Sto Cosa Rimortacci Su A uno È rimasto Che cazzo E mo speriamo bene Ok Preciso Sarebbe O moriva Col 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 Veleno Oppure Lo uccidevamo Qualcosa Se resisteva Entrambi Avevamo perso È stato Un fight Abbastanza Di merda Questo qua Resistenza Al sanguinamento Meno resistenza Ma che ne so Ma Diamolo A qualcuno A caso Sto drink Poi lo sostituiremo Allora Questo glielo Dobbiamo far fare A lei Giusto Mo ci dovrebbe avere L'affarino Che ci appare qua Obiettivo Però è Perfetto Il covo Là davanti A me preoccupa Un po' Vedirò Dopo Dobbiamo fare Sto fight Sperando che non sia Un fight Difficile Spero che sia Leggero E E che ci dia La possibilità Sì Non dovrebbe essere Un fight Assurdo In teoria Questo lo eliminiamo Sub Questo dovrebbe Un percacchio Per forza Perché se no Non è contento E a lei E a lei purtroppo Non può L'unica È fare così Faglia una crocca A questo Meno male Che ha fatto La robetta Col sanguinamento Farlock E mo questo Farà la sua cagata Che dà 180 di stress Tra l'altro Eccoci qui Che dà 180 di stress Che dà 180 di stress Parecchio stressato il ragazzo No, sta cosa della guardia Non ci voleva proprio, ma che roba è A vederci Questo è in ricarica Vabbè almeno c'ha il danno ridotto Mi sarei volentieri installato un altro turno Per cercare le vamme un po' di stress con Barristan Il problema è che adesso dobbiamo un po' seguire Quello che è detto a Barristan sostanzialmente Perché se non seguiamo quello che vuole fare lui Andiamo a finire con lo stress potente Per cui la prossima cosa che dovremo fare di qua A meno che non andiamo all'osi Speriamo che non ci sia troppo stress Allora Questo io lo toglierei per fare il covo innanzitutto Questo va bene Come spell e cose Secondo me stiamo messi giusti Per farcelo il covo Vediamo Ce la dovremmo fare senza grossi Per generale regà È tosto Proprio tosto È tosto Io non credo che di volermelo fare onestamente Il covo del generale Non credo di volermelo fare Il covo del generale A dirla tutta Ve la dico tutta Questi balestreri sono una rottura di coglioni infinite Tra l'altro l'abbiamo mai battuto noi il generale Ne sa di nuovo Il generale ci vuole veramente tanto DPS Per Per riuscire a farlo fatto bene Se no è un disastro Se no è proprio un disastro Buono questo Ancora Finalmente Non avevano Era un bel po' che non dicevano nulla Sti ragazzi Beh questo è morto Venevo una guardia a questo Buono Speriamo che schioppi pure questo Però che palle Mo' gli fa pure il Eh pure il coso Che due coglioni Pure lo stress Che mattonata Questo si è preso Questo ha preso proprio un mattone pieno Questo morirà Questo morirà Ok Un po' la roba Un po' la roba C'ho paura che stiriamo C'ho paura che stiriamo C'ho paura che stiriamo Ed è brutto proprio Vediamo come va sto secondo fight Se va bene questo proviamo un attimo Se no ce ne andiamo proprio completo Ah c'è il tamburellante qua L'uomo del tamburello Tadantun 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 Arriva di dova da una gricca assoluta Tadantun 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 La combo dei loro due Fa Fa Il suo lavoro Devo dire Assolutamente Il suo lavoro Comunque dovrei fare Andare indietro Spararmi il critico E poi attaccare Facciamo così va Giochiamocela un po' aggro Perché se no qui Secava il ragno del buco Questo non vuole morire Vabbè A posto Alla fine ha voluto Eccolo Adesso Alla prossima lo curo Devo dire ora E Anche lei la curiamo Alla prossima Ah perché What Perché non è utilizzabile What a prox Perché non è utilizzabile What Ah perché non posso Attaccare nient'altro Se non questo imbecille Qua Make sense Che quello è un attacco Carina sta cosa Figa Non ci avevo pensato Visto che è un attacco Non te lo può fare Ok Make sense Questi vanno entrambi in Death's Door Questo è morto Questo va in Death's Door Però dobbiamo eliminare Prima questo Se no fa la sua mossa Del gioco Oh madre no Adesso fa il giochino No C'abbiamo il turno Prima noi Speriamo di Eh non ce la facciamo Ouch Forse sì 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 Crepa prima Arrivederci Meno male Che culo Allora il prossimo turno Che ci dà Questo grog delfante Che è super potente Ogni alleato All'inizio della battaglia Può avere 33% di chance Di avere Guardia Però se inizia Se fa un colpo mancato Se inizia il round Per primo C'ha il danno Diminuito 200% di danni Contro l'inizio Della battaglia Ma non mi piace Questo sogno Del generale Onestamente La piastra è figa Perché fa le Sapete che c'è Io me ne vado Non è worth Non mi piace Il trinket del generale Mi prendo questo E me ne vado Sapete che c'è Ne faremo un altro Di cosa Lo faremo voi Veramente marcio Il trinket del generale Ma aspettavo qualcosa Dei meglio Dove vogliono andare Questi No Facciamo così Togliamo due di stress Prendiamo la via Semplice Per To go home Anche perché Poi abbiamo un bel fight Davanti Con Con i cosi Non mi piace proprio Quel trinket lì Non vedo Come potrebbe essere Utile Il danno Ai resti corporei Quando c'è Un sacco di spell Che li One shottano Istantaneamente Che c'è da Ah c'è da L'acquetta Che diminuisce Lo stress E ripristina Questa è Questa è questa Regà L'acquetta Questa qui È veramente Veramente Bestiale Fortissima Questa qua Penso che sia Sostanzialmente La meglio cosa Che c'è La meglio cosa Che c'è Probabilmente In assoluto In Tra tutte le robe Che c'è Questo qua Butto al secchio E' la meglio cosa Che c'è Probabilmente Tra dei trinket Quelli base Che puoi rimediare Quando non hai Livellato tutto Cosa che assolutamente Non abbiamo fatto Per niente Barristan è stressatissimo Non voglio che esploda Dobbiamo destressare Barristan Guarda che disagio Sto posto Ma dov'è che sta Eccola Non capito Siamo sopra Ma il bastione Non lo fa vedere Ok facile 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 No Non è vero Oh mentira Non è facile Facile Oh mamma Oh mamma Non è più Facile Facile Aiuto Lui era pure disorientato Il bambinello No Vi prego Ma io questo Ok posso farglielo così Sì Vai via la schivata A tutti Ottimo Meno male che non si è Baffato il coso Va benissimo così Vediamo Le stress Hai rotto pure La minchia Devo dire Hai rotto pure La minchia Beccate questi Dieci danni Creputi Ma vale la pena Sta cosa qui Secondo me no Facciamo così Diretto Mettiamo di 900 Di sanguinamento A questo qua Questo intanto Lo togliamo Dalla picture Eh questo piano piano Va ucciso Assolutamente Speriamo che crepi Ah no Non crepa Perché lo cura È vero Che sfiga assoluta Punto di morte Non vuole morire Bene Gli ha anche messo Il combino Undici cura Su Vabbè Rip Ok Eliminato Vai Bisogna assolutamente Levar il sanguinamento A lui Assoluto Vai Via il sangue Lui non è che può Fa molto Può fa questo E basta Sostanzialmente Il bambino Qui rompe i coglioni Ci abbiamo poca vita Tra l'altro No Cazzo Si ha messo male Lui devo dire Curetta No la guardia Ok Però C'è Fortunatamente Lei ignora la guardia Facciamo così Con lui bisogna Levar sto stress Sennò va a finire Che mese Demoliscono le meningi A tutto il team Non ha crittato Molto male Ok Molto bene Ha crittato Finalmente Bene No in realtà No perché Altro stress Oh mamma Oh mamma No Facciamo così Allora Dobbiamo curare tutti i costi Sennò questo c'è stile Ora leviamo questo Dalla picture Ottimo Beh rimane poco e niente Dai Questo qua è morto Mi sa che era morto uguale Però meglio così Il banabino Ok Questo è morto Dobbiamo Levare la guardia Eh non c'abbiamo una cosa Che toglie Che toglie la guardia Che tolga la guardia Che è Più o meno male Questo Diamo se ne ha curato E ora il banabino Lo facciamo pian pianino Dalla sola Sprega sto critico Per fa' tre danni Devo dire Però lo devo fa' Barristan potrebbe fare Un togli stress Magari Vediamo se riusciamo A non ucciderlo Eh Peccato Vabbè niente C'era due HP Veramente Se no avremmo potuto fare Un levastressino Volante Non ce l'abbiamo fatta Uno Oh buono Fiamma Vabbè Non ci serve a niente Con oggetto macchiato in uso Più 75% di vita Meno 50 danni Cioè Si Ok Se c'è sanguinamento Uno di stress Più 50 Resistenza al sanguinamento Cioè Questo potrebbe avere C'è senso E se tipo Non lo so Fai Barristan full taunt Non Non lo so Cioè si Potremmo provare Non lo so Proviamo Proviamo Barristan full taunt Vediamo Full difesa Full supporto Potrebbe averci un significato La cosa Però non Non capisco Vediamo Magari funziona Chi lo sa Proviamo Barristan full tauntatore Pazzo E mo si va in locanda Signore Si va in locanda Respite within reach Positivo Positivo Yeah Bene Bene Yeah Perfetto Siamo Siamo messi Abbastanza bene Tanto lo stress Di Paracelsus In un modo o nell'altro Riusciamo a sistemarlo Senz'altro Per cui Nessun problema Sta andando Morto bene E la montagna È proprio lì Dobbiamo trovare Un covo Che sia interessante Perché quello Che abbiamo fatto Prima Non c'è Non mi sembrava Che desse Niente di utile Onestamente Cos'è sta cosa Gamba malandata C'abbiamo tutte Situazioni Oh no Peccato che non c'è Un bel Ve lo ricordate Del maialino Che buono Che era Mamma mia Il maialino Quanto era buono Cavolo Mettiamo Ste due cose Tra l'altro C'erano pure Le skin Ci ha dato Ci ha tolto Uno di stress In automatico Perché abbiamo Messo sta Non è che è Buggato Lo puoi fare A manetta Sarebbe stato Divertente Allora Meno due Meno due Gliela portiamo Meno due Pure qui Ce la facciamo Tranquillamente A portare lo stress Di tutti quanti Piuttosto Questo se butta Che te fa venire Malattie Lo facciamo però Alla prossima puntata Perché ovviamente Sapete che Se no non mi salva Quello che faccio Quindi Ci lasciamo qui Al dono Del mugnaio Che c'ha Almeno 50 Del costo Gli oggetti A battaglia Del costo Gli oggetti Praticamente Ti fa pagare Tutto Mille mila Di meno Anche se io Non vedo Nulla di Onestamente Super Intricante Che dico Madonna Lo devo comprare Forse questi Ma non credo Vediamo poi Se Se Riavviando Dovesse Cambiarci I prezzi E le cose Ecco Forse La bottiglia Di whisky Potrebbe essere Interessante Perché aumenta Un pochino Il coso Dei nostri Boys Ma per il resto Poco e niente Quindi come al solito Se siete arrivati Fino a qui Io vi ringrazio Tantissimo Grazie per seguire Il canale Se non lo fate Vi invito a farlo Perché più siamo E meglio è E ci becchiamo Il prossimo venerdì Con un altro Darkest Dungeon Dale tutto Bella pips E alla prossima Ciao